Il futuro delle società calcistiche professionistiche sarà la costruzione di seconde squadre. Sulla scia di quanto accade in Inghilterra, Spagna e Germania, anche l'Italia si sta attrezzando e secondo il DS Luigi Piangerelli a Cesena il Romagna Centro rappresenta un'ottima opportunità per il cavalluccio. Io personalmente ci credo fortemente perché da un po' di anni che facciamo l'input della federazione è di fare delle primavere sempre più giovani e poi c'è il buco settore giovanile prima squadra quindi si sta molto parlando e vedrete che il futuro saranno le seconde squadre nei prossimi anni chiamate la Juve B, Milan B e così e il Romagna Centro deve essere una nostra seconda squadra per far crescere questi giovani perché il percorso dei ragazzi non è sempre settore giovanile prima squadra del Cesena Calcio, ci sono delle tappe e degli anni di crescita fondamentali quindi può darsi che con uno di questi ragazzi qui del Romagna Centro magari un domani faccio parte della Rosa del Cesena di squadre importanti.